Ciao a tutti i pixelini, benvenuti a guardarci lo shop del 21 maggio. Sono tornati i supereroi personalizzabili. Guardate un po'. Eccoli qua. Facciamoci sto slide delle eroine femmine. Quante personalizzazioni. E' da non cambiare con la paperella. E vabbè, cambia. Figata però che si possono personalizzare in mille maniere. Oh, mi raccomando, codice creatore. Di metterlo sempre. Allora invece ci sono anche, logicamente, i tipi... Il grande vault. Decollo. Vabbè, le monte sempre meno male è la stessa. Mille versioni per ognuno. Forte però è sta cosa di poterseli personalizzare tantissimo. Dai, questa con la paperella è troppo simpatico. Perché era vagabond questo qua. Ma dai, va. Ok, scendiamo. Vabbè, attrezzature da eroe. Da comprare a parte. Sti cabbi. Bello però. Poi, in evidenza, questo balletto. Eh, non c'ho la musica per il copyright. Ho dovuto disattivare. Che barba. Criptico. Bello così con la giacca fiammeggiante. Fiammeggiante. Con la texture fiammeggiante. Forte. E la versione femminile misteria. Ci sarà anche lei fiammeggiante. Forte però così, eh. Bella. Victoria's Hand. Bella, cacchio, questa. Ma anche così. Guarda, sai che figata di skin. Troppo bella nera, poi. Con le pistole, i pugnali. Bella, bella, bella questa. Core nero. Vabbè, anche questa è bellina, eh. Perché è particolare. Anche se l'abbiamo già vista un po' di volte, dai. Questa versione scura è carina. La 1200. Ostrega. Oh, bello, anche questo. Bellissimo. Questo. Oh, bellissimo. Bello, bello, bello. Per dire, mi è rotto il cubo. Eh, tra l'altro. Aspetta, facciamolo insieme. Vabbè, questi. Penso che li abbiamo già visti tutti. Pacchetto sfida dei serpenti. Vabbè. Quest'altri li abbiamo visti tutti le volte scorse. dai, ciao ragazzi, al prossimo shop. Anzi, ci vediamo oggi, venerdì. Ci faremo un torneino, un serverino privato. Vediamo un po', eh. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.